Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. Padre padrone disoccupato da tre anni alcolizzato, maltrattava moglie e quattro figli, non voleva che vivessero all'Occidentale, arrestato a Sant'Arcangelo per maltrattamenti e resistenza. Finiti i pattuglioni anti-abusivismo, il presidente dei Bagnini, Rimini Sud, Vanni, commenta, segnale importante, ma non è la soluzione. Tre settimane di chiusura per il Cocoricò di Riccione, il presidente del SILV, Indino, vogliamo collaborare, ma niente criminalizzazioni dei locali. Calcio slitta la partenza della Lega Pro per il mancato accordo sui criteri distributivi delle risorse collegate all'utilizzo dei giovani, giocatori in sciopero. Di nuovo ben ritrovati in studio, un'intera famiglia marocchina vittima delle angherie di un marito e padre padrone, contrario alla cultura occidentale alla quale una delle sue figlie si stava accostando. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sant'Arcangelo, dove da dieci anni vive con moglie e quattro figli. Vediamo. Zerrochi Abdelassam, 47 anni, marocchino, era un padre padrone. Da tre anni a questa parte, da quando aveva perso il lavoro come bracciante agricolo, era diventato violento. Erano i due figli maggiori, un ragazzo e una ragazza, a mantenere la famiglia di sei persone con uno stipendio di 1.500 euro al mese. Oltre all'affitto di 650 euro e le spese ordinarie, nel bilancio mensile influiva pesantemente anche il vizio del bere del padre. Ogni scusa era buona per riversare le sue frustrazioni sulla famiglia, moglie e quattro figli. Ieri, per esempio, era bastato venire a sapere che avevano trascorso una giornata al mare senza di lui. Alle 3.30 ieri notte, quando è tornato ubriaco, la sua rabbia è esplosa contro la moglie e la figlia di 20 anni, della quale non amava il modo di comportarsi, troppo occidentale. Le ha insultate e minacciate, anche di morte, poi con un forcone ha distrutto l'auto della figlia. Lei, nel frattempo nascosta in camera, ha chiamato i carabinieri. Le urla del padre erano così tremende che ha temuto il peggio. La madre, il fratello maggiore e i fratellini di 4 e 7 anni si erano barricati in bagno. Quando sono arrivati i carabinieri, l'uomo non era più a casa. L'uomo si era allontanato ed era ancora andato a bere in un bar. Portato a casa, mentre la figlia raccontava l'accaduto, è riuscito a liberarsi dai militari e le ha scagliato contro un pacchetto di sigarette, contro il volto, procurandole una lieve lesione. La moglie, con molto coraggio, ha deciso di denunciare tutte queste avvestazioni e queste violenze che ha subito da tre anni a questa parte. È stato arrestato in flagranza per resistenza pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e stalking. Si trova nel carcere di Rimini. Quella di oggi è una delle prime applicazioni in provincia delle novità normative a tutela delle vittime di violenza domestica e il femminicidio, introdotti dal decreto del fare, entrato in vigore il 21 agosto scorso. Nelle prossime ore il giudice valuterà se ci sono esigenze cautelari tali da tenere l'uomo in carcio o comunque un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Allarme e rapimento. Questa mattina è intorno alle 12.30 a Riccione, dove un bagnino ha chiamato i carabinieri segnalando una possibile sottrazione di minore da parte di un ragazzo. I militari giunti sul posto hanno trovato il giovane e lo hanno identificato. Si tratta di un 15 anni albanese residente a Novara in vacanza nella Perla Verde con tre amici. Una volta portato in caserma, i carabinieri hanno accertato che si trovava in forte stato confusionale, tanto da non ricordare dove si trovasse, se a Riccione o a Novara. Il giovane ha poi raccontato di aver preso una bambina per mano perché è convinto che fosse la sorella che invece era a casa con i genitori. Dagli esami effettuati è emerso che lo stato confusionale era dovuto all'assunzione di droghe. Il 15enne è stato riaffidato alla madre e ha accorsa a Riccione direttamente da Novara. E torniamo a parlare dei pattuglioni sulla spiaggia. Oggi è finito l'esperimento e si è concluso ieri l'esperimento dei pattuglioni antiabusivismo. Per due settimane, come sappiamo, volontari e guardie giurate hanno cercato di dissuadere i venditori dallo scendere in spiaggia. Non la soluzione al problema, commenta il presidente della cooperativa Bagnini della zona di Rimini Sud, Mauro Vanni, ma di certo un segnale importante. Intanto, ad esperimento concluso, il numero dei venditori è tornato a crescere. Vediamo. Un viavai di venditori abusivi iniziato già dalle 7.30 del mattino e che per due settimane invece non si era visto. A dirlo è Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud e le immagini filmate questa mattina gli danno ragione. Dopo i 15 giorni dei pattuglioni antiabusivismo che hanno presidiato la zona più calda dell'Avenile Riminese, dal 60 al 150, sulla battigia oggi sono tornati dei veri e propri mercatini non autorizzati. Nonostante le critiche quindi, l'esperimento voluto dal prefetto aveva dato i suoi frutti. Che non fosse la soluzione del problema, spiega Vanni, si sapeva fin dall'inizio ma era importante dare un segnale per far capire che la spiaggia riminese non è territorio di nessuno. E da questo punto di vista l'esperimento ha funzionato, invertendo una tendenza e ridimensionando i numeri dei venditori. Il presidente dei Bagnini parla poi di un metodo Rimini. Volontari, guardia giurata e bodyguard hanno usato come arma solo la dissuasione, niente maniere forti. Altro dato positivo, quasi un effetto collaterale, le divise hanno allontanato dalla spiaggia i malintenzionati. I piccoli furti sono praticamente azzerati, conferma Vanni. Ma la presenza dei volontari, ribadisce, non può essere la soluzione. A presidiare l'Avenile devono essere le istituzioni, con la creazione, ad esempio, di un corpo ad hoc. I vigili di spiaggia ipotizza Vanni, pensando ai bobbi inglesi. I volontari o gli stessi operatori possono essere un supporto. Intanto, in attesa di capire come risolvere il problema, la speranza è che la spiaggia riminese non torni nuovamente un far west. Da lì, infatti, era partito tutto. La violenta rissa tra bengalesi e senegalesi di inizio agosto per l'occupazione della battigia, con i bagnanti in fuga spaventati e turisti pronti a fare le valigie. Un episodio, e qui tutti sono d'accordo, che non deve ripetersi. E dalla spiaggia andiamo a parlare di locali. Continua ad essere critico il presidente del sindacato locale da ballo, Gianni Indino, sulla decisione di chiudere i locali dopo gravi fatti di cronaca, come è successo al Cocoricò di Riccione di recente. È scattato, infatti, alle 12 di sabato il provvedimento di chiusura per tre settimane emesso dal questore. La proposta è stata avanzata dopo che i carabinieri negli ultimi mesi hanno rilevato una lunga serie di situazioni legate allo spaccio e alla microcriminalità e ultimo in ordine di tempo, non certo per importanza, lo stupro ai danni di una ventenne milanese. In programma per metà settembre un incontro tra prefettura, i gestori dei locali e rappresentanti delle forze dell'ordine. Ma sentiamo l'intervista Gianni Indino. Mi sembra una soluzione veramente un palliativo che non riesce in nessun modo a creare dei presupposti neanche di soluzioni. Noi abbiamo proposto un incontro con i vertici dell'ordine pubblico che ci sarà, mi auguro, entro la metà di settembre, così ci è stato detto dalla prefettura proprio qualche ora fa. Noi riteniamo che ci siano le condizioni per poter inserire in una sorta di protocollo d'intesa delle iniziative, atte a qualche modo far sì che chi è intenzionato a delinquere, spacciare droga e via dicendo all'interno dei nostri locali, venga dissuasso. Oltre agli sforzi che compiamo quotidianamente attraverso il nostro sistema di sicurezza interno, saremo in qualche modo sotto stretta osservazione, sotto stretta collaborazione, più giusto, con le forze dell'ordine, le quali dall'alto ci seguiranno come una sorta di ala protettrice, faranno sì che chi riceve questo messaggio sappia che all'interno dei nostri locali e non siamo più soli ma siamo con, accanto, abbiamo l'ausilio, l'accompagnamento delle forze dell'ordine che sono nostre alleate in questa iniziativa. E al locale da ballo è collegato anche il turismo nella nostra riviera, anche in un anno in crisi il turismo riminese sembra dare segnali incoraggianti. A luglio crescono arrivi e presenze e anche gli indicatori di agosto sono positivi, va tenuto conto, spiega però l'assessore provinciale al turismo Galli, anche dei fatturati in calo. Mentre gli operatori turistici sono alle prese con il meteo ballerino dell'ultima settimana di agosto e il conseguente rischio di sdette, arrivano i dati provvisori su arrivi e presenze nel mese di luglio, più 1,6% i primi, più 0,2% le seconde. I dati dell'ufficio statistica confermano le difficoltà del mercato interno, meno 1% le presenze italiane, ma anche la PIL dall'estero, più 3,3%. Nonostante questi numeri positivi a pesare sul bilancio dei primi sette mesi, è però il mese di giugno funestato dalle piogge. E così, da gennaio a luglio, la contrazione di presenze si attesta al momento al 3,5%. L'auspicio è che le prossime tre settimane, che avranno il loro clou nel moto mondiale del 15 settembre, consentano, meteo permettendo appunto, di recuperare il gap accumulato ad inizio stagione, ma serve anche una riflessione sui fatturati. Luglio avevamo la sensazione di una buona ripresa, e di fatti c'è stata, complice la notte rosa, complice altri eventi, complice il bel tempo, e una buona performance soprattutto del turismo estero, che non compensa il calo del turismo italiano, però ci ha dato modo di tenere. Agosto chiaramente non abbiamo ancora dati ufficiali, però le sensazioni sono abbastanza positive. Chiaramente parliamo di dati relativi agli arrivi e alle presenze, non di dati relativi ai fatturati, quali sicuramente immagino saranno in grossa sofferenza alla fine di questa stagione. Su questo chiaramente un ragionamento, un'analisi più puntuale e approfondita andrà fatta, perché un conto sono le presenze, un conto sono i fatturati che producono. E si è risolto a Misano il caso delle emissioni di liquami che avevano causato il divieto di banneazione alla foce del rio Agina. Le tre squadre di ERA hanno individuato sabato una struttura alberghiera con un pozzetto otturato che aveva causato l'immissione di acque nere nella rete di quelle bianche, sversamento che aveva causato un innalzamento dei livelli di enterococchi ed escherichia coli, riparato il guasto con la pulitura della condotta oggi è stato revocato il divieto di banneazione. Le nuove analisi di ARPA confermano infatti il rientro dei parametri nei limiti, ma le indagini non finiscono qui, spiega in una nota il Comune, che con il supporto di ERA continuerà a controllare il tratto interessato delle condotte di acqua piovana con apposite telecamere alla ricerca del punto di origine dello sversamento illegale. E avrà per titolo verso le periferie del mondo e dell'esistenza il destino non ha lasciato solo l'uomo. È la 35esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si terrà a Rimini dal 24 al 30 agosto dell'anno prossimo del 2014. L'annuncio, come di consueto, è arrivato sabato nella giornata conclusiva della Kermess, un'occasione anche per tracciare il bilancio della manifestazione. È stato soprattutto il successo della vita, dell'esperienza, dell'emergenza uomo. Incontri reali, gente reale, anche i politici, i ministri hanno parlato delle questioni. Nessuno ha fatto passerella e il fatto che questo meeting si concluda anche con un ulteriore gesto di vicinanza ai cristiani che soffrono nel mondo ci pare che sia proprio un segno che ciò che ha vinto in questo meeting è l'esperienza degli uomini. Verso le periferie del mondo e dell'esistenza il destino non ha lasciato solo l'uomo. Continua il cammino, continua questo impeto di apertura del meeting, continua questa centralità del tema del destino dell'uomo e continua soprattutto questa domanda su chi può fare compagnia al destino dell'uomo. Il meeting si conferma non solo dal punto di vista economico ma è un appuntamento importante anche per Rimini e per il suo territorio. Sì, certo, credo che quest'anno questo sia stato anche variamente sottolineato anche prima che il meeting iniziasse credo che i numeri di questo meeting che noi riconfermiamo come 800.000 presenze quindi riconfermiamo in un anno di crisi economica ai livelli dello scorso anno sia qualcosa di importante per Rimini ma io penso che lo sia non solo per questo indotto di tipo economico che comunque soprattutto in questi tempi ha un suo valore ma io credo che il meeting a Rimini porti ricchezza culturale porti possibilità di rapporti, di incontri che in molta parte anche in questo meeting sono accaduti porti internazionalità che è la grande vocazione della nostra città. Quando ce lo siamo inventato il meeting abbiamo detto valorizziamo questa grande vocazione internazionale di Rimini credo che in questi 34 anni lo abbiamo fatto. Siamo ai 100 secondi. A lunedì 20 della scorsa notte la polizia ha arrestato tre rumeni di 38, 28 e 27 anni che hanno rapinato tre connazionali in via Brighenti a Rimini le vittime, un 26enne, un 43enne ed una trentenne stavano camminando quando sono stati avvicinati e accerchiati dai malviventi due dei quali armati di cocci di vetro e coltello i due uomini hanno reagito l'unica derubata del portafoglio è stata la ragazza colpita anche al volto da un pugno due scosse di terremoto nella notte alle 3.21 un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato nel distretto sismico zona Rimini con epicentro nel Forlivese tra i comuni reminesi più vicini Bellaria, Sant'Arcangelo, Verucchio e Nova Feltria poco dopo alle 3.43 un altro terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito il distretto Monte Feltro l'epicentro nella zona di Mercato Saraceno aveva dormito in spiaggia e quando si è svegliato verso le 3.30 si è accorto di aver smarrito lo zaino con documenti, soldi e chiavi del Residence inviadandolo nel quale alloggiava un giovane turista tedesco di 17 anni così, trovando il Residence chiuso e per non svegliare i compagni di stanza ha deciso di arrampicarsi ma è caduto da 3 metri riportando diverse fratture ne avrà per 40 giorni un ragazzo a bordo di uno scooter aveva risposto con un gesto poco educato ad un automobilista che lo ha inseguito fino a fermarlo e lo ha preso a schiaffi poi è risalito in auto ed è scappato è accaduto ieri alle 15.30 sul lungomare di Vittorio a Rimini il ragazzo è stato portato al pronto soccorso per una lieve ferita al labbro e da sporto denuncia ci sarà il gonfalone del comune di Rimini accompagnato dall'assessore Pulini domani a Milano per il funerale di Paolo Rosa scomparso martedì Rosa, fondatore di Studio Azzurro era stato insegnito nel 2011 del Sigismondo d'Oro la cerimonia avverrà in forma civile alle 17.30 la fabbrica del vapore di cui Rosa era presidente ultima proiezione in pellicola di Amarcord alla corte degli agostiniani arriva l'era del digitale ma per il film simbolo della Rimini felliniana non tramonta l'amore dei riminesi posti solo in piedi anche per ascoltare la divertente introduzione dell'attore Ivano Marescotti presentazione di Amarcord forse il film di Fellini preferito dai romagnoli però un film che ha avuto un successo internazionale è dire che parla di Romagna e Rimini come mai secondo lei? è una cosa che ha iniziato un'epoca infatti parla della Romagna ma parla della Romagna con un respiro universale e non è il solo è il primo che ha messo la Romagna al centro dell'universo poi ha seguito Trinoguerra o in concomitanza con Trinoguerra ma soprattutto ultimamente con Raffaello Baldini la Romagna nel mondo ecco quanto è attuale questo film sotto il profilo dell'attaccamento al territorio alla Romagna insomma quanto i romagnoli oggi ci si possono riconoscere? guarda io l'ho rivisto di recente ed è godibile ogni volta che si rivede sinceramente e credo che sia l'unico l'unica opera d'arte prima di Raffaello Baldini che ponga al centro di una cosa così universale dell'animo umano la Romagna tutti i territori italiani hanno una grande tradizione per esempio i napoletani i siciliani i romaneschi il manca la Romagna manca la Romagna e un mancava fino a che non è venuto fuori Federico Fellini sognando con Fellini quale ruolo le sarebbe piaciuto interpretare da romagnolo in Amarcò? il padre il padre di Tito credo è un personaggio splendido straordinario ecco il capello del Cavaliere Biondi è andato al cinema ieri senti qui che butta e sai chi è stato? quel lazzalone camorra di tuo figlio si è messo a pisciare nella galleria e sotto c'era il Cavaliere Biondi tre scudi tre scudi sono sicura che non è stato lui ma che delinquente dei suoi compagni ecco e si chiude con un bilancio ampiamente positivo di presenze il Paglio del Daino di Mondaino un vero e proprio salto indietro nel tempo precisamente nel 1459 con un incontro davvero storico vediamo tra chi il Paglio del Daino non conosce la crisi in un'estate contrassegnata da qualche preventivabile segno meno delle presenze nei vari eventi della Valconca Mondaino va in controtendenza registrando migliaia di presenze in tutte e quattro le serate del Paglio rievocazioni storiche l'enogastronomia di qualità curata dalle quattro contrade Borgo, Castello Contado e Montebello ed una serie di spettacoli e di intrattenimenti estemporanei sono la rodata ricetta capace di richiamare tantissimi sia dalla riviera che dalle vicinissime marche un appuntamento capace di catalizzare anche l'attenzione di turisti italiani e stranieri festeggiamenti ispirati da una fedele ricostruzione storico-filologica che trova l'apice nell'incontro tra il conte di Montefeltro e Sigismondo Malatesta di Rimini che come si conveniva in tempi di pace dandosi la mano sinistra davano sostanzialmente il via alle feste una scena rivissuta e ricostruita fedelmente in piazza maggiore con decine di figuranti dagli armigeri ai popolani fino ai religiosi e alle damigelle e dal paglio non potevano poi mancare per i vicoli di Mondaino i giocoglieri con le loro evoluzioni ma anche gli acrobati della parola ovvero i giullari di corte se lo giullare cortese è illuminato con dei fari non sente senz'altro il vostro calore perché di solito qui sulla piaccia maggiore si diverte e cerca anche di divertire però appunto questo non può finire e dopo le risate il momento dello stupore con l'arrivo in piazza dell'incantatore di serpenti con uno spettacolo capace di togliere letteralmente il fiato ma niente paura ora le cucine sono pronte come sempre a fare il loro dovere per rincuorare tutti i visitatori suggestivo il colpo d'occhio delle centinaia di persone disseminate tra le bancarelle dove in pieno stile medievale si trova veramente di tutto per soddisfare sia lo spirito che il corpo e dopo aver mangiato tutti con il naso all'insù per l'improvvisa danza dei trampoglieri nei pressi della taverna dello Borgo con i musici pronti ad accompagnare i viandanti con le loro note gran finale ancora in piazza con ancora musiche balli e colori per un paglio del daino perfetto anche nell'organizzazione del flusso dei visitatori con la rocca alla fine ferma lì quasi a dirci ci vediamo il prossimo anno il sole 24 ore ha pubblicato oggi l'indice di sportività delle province italiane per Rimini un grosso salto all'indietro che la fa crollare al sessantesimo posto società in difficoltà economica squadre storiche che si apprestano a fronteggiare il campionato con formazioni di giovanissimi vedi Krebs altre costrette a fare un passo indietro dopo promozioni ottenute sul campo come il Viserba Volley forse non serviva una classifica per capire che lo sport riminese è in difficoltà ma la graduatoria pubblicata oggi dal sole 24 ore mette il sigillo su una realtà purtroppo nota ultimi in regione per indici di sportività e sessantesimi in Italia in discesa di 15 posizioni la provincia non svette nessuno dei 35 indicatori presi in esame che vanno dalle discipline sportive ai media di settore al collegamento tra sport e turismo quattro le macro aree analizzate per Tesserati Rimini si piazza 45esimi in Italia alla voce sport storie e società è 56esima così come per gli sport e di squadra addirittura peggio per quelli individuali 65esima spulciando i risultati dei sotto indicatori la provincia guadagna il sesto posto per giocatori professionisti di calcio il 18esimo nel nuoto il 20esimo nel tennis il 23esimo in enti di promozione sportiva e sport turismo e natura malissimo invece per crisi e campionato 95esimi sport e bambini e squadre femminili in una notte il presidente della provincia vitali ricorda come diversi comuni stiano prevedendo nuovi spazi sportivi o la riqualificazione di quelli esistenti ma lancia anche un monito deve cambiare una mentalità consolidata di indifferenza verso il sostegno allo sport una forma di egoismo dice che alla lunga impoverisce le città e quindi tutti e adesso parliamo di calcio la prima giornata di Lega Pro non si giocherà i calciatori non scenderanno in campo il prossimo weekend la decisione arriva a seguito della riunione di oggi tra l'associazione italiana calciatori e la Lega Pro per trovare un accordo circa la questione dei criteri distributivi delle risorse collegate all'utilizzo dei giovani i calciatori sciopereranno in occasione delle gare programmate il prossimo fine settimana per la prima giornata del campionato dura la replica del presidente della Lega Pro Mario Macalli che ha detto è uno sciopero in debito per me il primo di settembre comincia il campionato chi c'è c'è chi non c'è ne pagherà le conseguenze e intanto arriva una sconfitta a Beffarda la prima ufficiale dei ragazzi di Osio siamo in Coppa Italia di Lega Pro superati 2 a 1 dalla Reggiana a Reggio Emilia succede tutto nella ripresa al ventesimo Brunori Sandri porta in vantaggio e Granata al 44esimo Baldazzi pareggia con la complicità del portiere Emiliano al 49esimo in pieno recupero Alessi su rigore realizza il 2 a 1 finale il Bellaria chiude la sua avventura in Coppa con una sconfitta sul campo della Spal questa volta il passivo rispetto alla prima giornata è meno pesante al settimo Varricchio porta in vantaggio i Ferraresi al 33esimo della ripresa Pandiani raddoppia finisce 2 a 0 per i padroni di casa il San Marino invece Corsaro 2 a 1 a Chieti decidono le reti in 7 minuti tra la mezz'ora e il 37esimo del primo tempo di Lolli e Villanova per i locali in gol Terrenzio al 39esimo della seconda frazione era l'ultima notizia di questo telegiornale grazie a tutti voi per aver scelto l'informazione di Icaro Tg vi lascio adesso come di consueto alle previsioni del tempo dalla redazione buona serata grazie a tutti grazie a tutti